Cari amici, ben ritrovati a tutti voi, benvenuti a questo primo video di questo 26 di gennaio del 2024. Questa sera ha inizio il campionato, si ricomincia, cerchiamo di tornare un pochino al normale svolgimento del campionato dopo il pastrocchio della Supercoppa che davvero per tanti motivi è stata una cosa che grazie al cielo ci siamo messi alle spalle. Quindi detto ciò direi di partire immediatamente con la nostra piccola intro legata al mio libro. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, Fuggire per rinascere, chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondatori, lo store della Fertrinelli. Oppure in alternativa per scoprire tutte le altre modalità di vendita vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi direrà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente ragazzi chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Allora ragazzi, di nuovo ben trovati, ci gettiamo in questo primo video nel nostro Fanta Calcio, la nostra Bar League e subito andiamo a vedere la classifica che è generata, come di consueto primi e dieci posizioni non di più, quindi troviamo a Ciparma in testa con 149 punti, al secondo e al terzo posto con 147 punti ciascuno troviamo Ovetto di Pasqua e Eagles 1900, al quarto posto con 145 punti Team Massimo, quinto posto in grande ascesa Tifosetta Ardita con 141 punti, al sesto posto New Team con 139 punti, al settimo posto il campione in carica arriva lo squadrone con 137 punti, all'ottavo posto ASL Chris con 117 punti, al nono posto Palermo con 115 punti e al decimo posto Xeaseded con 113 punti, eccomi là, relegato al tredicesimo posto con 107 punti. Obiettivo rientrare subito nella top 10 che è il mio obiettivo stagionale, perché non credo di avere né i numeri né le capacità in questa stagione per ambire al piazzamento più alto o addirittura al podio. Qual è il problema? È che io sono fortemente combattuto dalla mia rosa, perché ero convinto di essere andato a punti e invece mi sono trovato senza punti perché ho scoperto che ad esempio Blauvic ce l'hanno praticamente tutti. È una situazione un po' particolare, sono un po' combattuto se tenere Blauvic o puntare su qualche altro giocatore di, tra virgolette, di rottura che non hanno gli altri, il che può essere un pro o un contro. Non lo so, vedi con la sencela vedete, dovrei fare una statistica e vedere quali squadre hanno Blauvic, quante squadre e quante no. Per esempio AC Parma e Ovetto di Pasqua sono prime, no? Andiamo un attimino a vedere le rose, ok? AC Parma e Ovetto di Pasqua. Aspetta un attimo, eh? Andiamo a vedere le squadre. Squadre, allora... Aspettate un attimo. Anzi no, mi basta andare sulle formazioni, ho detto una stupidaggine. Andiamo a vedere le formazioni della ventunesima giornata, per esempio... Ovetto di Pasqua, eccola là, Cia Blauvic, vedete ragazzi? E Lukaku addirittura. E Gudmus, vabbè, questo fa paura. Vedete, per esempio? Poi, che ne so, AC Parma. Per esempio, Tifosetta Ardita, Cia Blauvic. Tim Massimo, Cia Blauvic. Cioè, raga, Blauvic ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti, Blauvic. Quindi avere Blauvic, per quello che è la mia concezione di fantacalcio, è come non averlo, perché ce l'hanno tutti. Ci hanno tutti, Blauvic. Ci abbiamo tutti, Blauvic. Io non lo so, perché se poi tu non ce l'hai, sei penalizzato rispetto a tutti gli altri. Che faccio? Brucio? Raga, sono molto combattuto. Che vedevo di teniamolo. Ce l'hanno tutti, ragazzi. Incredibile. Ecco, c'è solo... Ecco, chi non ce l'ha, ci sta questo Mone 17 che è un po' penalizzato però nella classifica, perché non ce l'ha. Per il resto ce l'hanno tutti. Vabbè, che vedevo di ragazzi. È molto... È una situazione molto particolare. Mi ce l'ho trovato poche volte in questa situazione, tutta la verità, vabbè. Andiamo a schierare la formazione. Quindi puliamo il tutto. Partiamo da un... 3-4-3. Quindi cominciamo con Maignan tra i pali. Su questo non ci sono dubbi. Poi mi sposto subito sull'attacco. Dove abbiamo? Lautaro Martinez. Dove abbiamo? Abbiamo Vlaovic. Dove abbiamo? E che retegui, non lo prendo. Verona, Frosinone, Caio, George. Mi gioco retegui. Andiamo a vedere la difesa. Dove abbiamo? Mamma mia. Gatti Juve Empoli. Mamma mia, ragazzi, che situazione. C'è Fiorentina-Inter-Parisi. Mi rigioca Ugello in Cagliari-Torino. Mi gioco. Che me gioco, ragazzi. Qua è un casino. Voi vota in Cagliari-Torino. Non voglio giocare a quelli della Fiorentina perché non so fino a che punto facciano bene. Andiamo a vedere a centrocampo. Zaccagni espulso. Caius espulso. Atalanta-Odinese-De Cadelare lo gioco sicuro. Pulisic-Milan-Bologna lo gioco sicuro. E poi? Ma regà, io sarò... Monza-Sassuolo. Allora, mi gioco Musa e UEA. Entrambi dalla panchina. Poi, designa il capitano. Vlaovic con Lautaro Martinez, vice-capitano. Panchina. Cominciamo, come di consueto, dagli attaccanti. Caio-Giorgio è sicuramente il primo ricambio. Poi abbiamo Cancellieri. E poi abbiamo Simen. Anche se non c'è io, metto pure quelli che non ci stanno. Pure gli infortunati perché magari tra oggi e domani cambia qualche cosa. Capito? Centrocampo. Gendosi. Lazio-Napoli. Sì, Gendosi, prima alternativa. Ciurria. Anzi, inverto Ciurria e Gendosi. E poi metto dentro. Zaccagni pure si è squalificato. E metto dentro Cagliust pure si è squalificato. Andiamo alla difesa. Intanto metto Biraghi squalificato. Questa cosa di squalifiche da ammunizioni ed espulsioni. Quindi squalifiche da smaltire. in campionato e le hai prese in Supercoppa italiana mi pare una cosa assurda. Però vabbè. Allora, tre soldi pure se hai un giocatore che detesto. Cagliude. Parisi. Dodò. Mirante. E Sportiello. Allora, ecco quella che... Intanto fatemi salvare. Salva per tutte le formazioni, ho capito. Salva per tutte le formazioni. Questa volta non voglio sfruttare l'effetto switch. Vi dico la verità. Andiamo quindi a riepilogare. Torno al mio 3-4-3 consueto. Con Magnan tra i pali. Gatti, Augiello e Boevoda che in difesa. Decatelare, Pulisic, Musa e Ueha a centrocampo. Lautaro Martinez, Blauvic, Retequi in attacco. Con Blauvic capitano e Lautaro Martinez vice. In panchina, Caio Giorgio, Cancellieri o Simen per l'attacco. Per il centrocampo, Ciuria, Gendosi, Zaccagni, Cagliust per la difesa. Birachi, Tresoldi, Caio De, Parisi, Dodò per la porta, Mirante e Sportiello. Non voglio sfruttare l'effetto switch. C'è un po' di strategia in questa mia formazione. Boevoda parte, non gioca, c'è il 60% di probabilità, ma l'ho messo comunque titolare. Voglio dare ancora fiducia ad Augiello. Musa parte dalla panchina, ma me lo schiero titolare. Ueha parte dalla panchina, ma me lo schiero titolare contro l'Empoli. Voglio provare questa strategia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Questa è la mia formazione. Pure voi fatemi sapere. Che fate strategia pure voi, che non dite mai niente, non vi sbilanciate mai. Se volete fare domande sul fantacalcio, o volete dare una vostra opinione su quella che è la mia formazione, va bene, andate, scrivete, commentiamo, facciamo community. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.